La pinetina dall'alto prima di scendere sul percorso nel giorno dell'Aproam. Gli amici di Giorgio Bordoni non mancano mai per un Memorial dell'Alps Tour diventato tradizione da rispettare. Il clima di festa qui si trova sempre. Oggi il sole tra le piante impreziosisce il percorso che i più forti giocatori del circuito continuano a studiare prima del torneo. Ci saranno cambi meteo, si provano tutti i colpi, in caso di variazioni si testano i green più mossi di stagione. Ci sono i più forti in questo primo appuntamento italiano e i giocatori azzurri che conosciamo e che hanno già saputo vincere sull'Alps Tour. La premiazione è sempre una bella cornice per una gara che dal 2014 fa del bene e prepara i professionisti a carriere sfavillanti. Siamo pronti, le bandiere sono issate, i campioni sono carichi, il campo è di smeraldo. Guarda qua, tra la pineta più famosa del golf italiano. Sing your life!